Bruno Cazzillo, presidente del club 500 Campobasso, quattordicesima edizione di questo raduno nazionale ed è già un successo arrivare a quattordici edizioni. Sì, giusta cosa hai detto, arrivare alla quattordicesima edizione è consecutiva, non è da tutti i club. Io in pratica sono il presidente di questo club da tre anni, chi mi ha preceduto c'è stato dieci anni e adesso andiamo avanti con questa organizzazione. Io mi complimento con tutti i miei soci, consiglieri, vicepresidenti, che veramente ognuno c'è il proprio ruolo e il proprio compito e stanno svolgendo l'egreggiamente. Quest'anno abbiamo fatto il boom di presenze, non so perché, ma me lo immagino, perché comunque noi il nostro obiettivo è l'ospitalità, praticamente la nostra padrona d'ordine quest'anno è l'ospitalità. Ieri siamo stati a Pietracupa, oggi saremo orati a farli visitare uno dei borghi più belli d'Italia e dopo andiamo tutti quanti a trascorrere il prazzo conviviale all'Hotel Palma. Ecco, due giorni intensi, lo vediamo dalle immagini, grande partecipazione, lo ha detto anche lei, sono davvero tante le 500 quest'oggi, cioè in questi due giorni qui nel Molise. No, sono tantissime, io posso capire perché vengono qua, perché chiaramente qua trovano un clima ideale, specialmente in queste temperature qua, che vengono a visitare Molise, gli piace, l'organizzazione probabilmente gli sta bene e vengono da tutte le parti d'Italia praticamente. Grazie a tutti.